Perchè ci siamo fermati? Shhh, ascolta! Hanno spento il sistema di supporto vitale. Ci tolgono l'aria. Non fanno nulla di piacevole quei robot. Dobbiamo subito uscire dai tunnel. Bennotte! Questa scala d'uscita ci farà risalire in superficie. Cosa c'è lassù? Campi di acetilene. Acetilene? Come il gas? Non mi suona bene. Siamo a corto di aria e di opzioni, quindi andiamo su. Ok. Stai bene? Non mi è mai piaciuto salire le scale sotto pressione. Sai una cosa? Sei straordinario. Davvero? Pensa a ciò che hai dovuto passare per arrivare fino a qui. Eppure vai avanti. Davvero notevole. Grazie. Se ti aiuta, concentrati su quello che sei sulla acetilene mentre sali. Lo hai studiato per le qualifiche? Sì, credo di averlo fatto. Devi sbrigarti, Ryan. Scusa. Che odoraccio! Che cos'è? Aglio? Ehi, un momento. Ferma. È come se il terreno si muovesse. Finalmente. Un grande banchetto di vita. Nessuno si muova. Non fatevi toccare o vi spremeranno via la vita. Sì. Spremiamo la vita via da tutti voi. Le parole servono a distrarvi. Sono state create in quel laboratorio. Non puoi salvarli. Sentiamo l'odore anche della tua paura. La più forte di tutte. Volete la paura? Ho dodici vite di paura da offrirvi. Dodici vite? Ti prenderò per prima. Ti sei ricordato qualcosa, Ryan? Mentre salivamo. È più leggero dell'aria? Sì. Odora di aglio ed è più leggero dell'aria. Giusto? E c'è un'altra cosa al riguardo. Ma dovremo scavare per scoprirla, giusto? Di cosa stai parlando? Che stai facendo? Sta zitto e scava! Tu li guidi, ma hai paura per te e per gli altri. Sì, beh. Chi non ce l'ha? Paura del tuo essere nuova. Vediamo ancora più a fondo, più indietro. Il bambino senza tempo. Che cosa avete detto? Lei non lo sa. Di cosa state parlando? Che cosa vedete? Vediamo ciò che è nascosto. Perfino a te. L'emarginato, l'abbandonato, lo sconosciuto. Uscite subito dalla mia testa! Ora ti spremeremo via quelle paure! Godetevi il banchetto, qualunque cosa sia. Perché lo sai cosa fanno alcuni dopo un banchetto? Graham! Non io. Alcune persone! Fanno un banchetto, un bel sigaro. Giù! Terzo fatto! Si incendia molto facilmente. Caro vecchio acetilene, visto? Lavoro di squadra. Ora muoviamoci. Andiamo! Andiamo!